Come segna la vita di tutti i giorni, in famiglia possono esserci punti di vista diversi, ma alla fine diciamo così tutto è orientato a far sì che la famiglia stessa cresca, sono dialoghi costruttivi, a volte ci sono sicuramente anche delle idee diverse, ma se mi concede una battuta, di fronte ad un barattolo di Nutella troviamo tutti l'accordo. I fratelli Pietro e Giovanni Ferrero per l'avvenzione. Come ci si sente a essere portatori di questo enorme patrimonio, non ripauriti? Pietro, partiamo da Pietro. Innanzitutto è una grande responsabilità, una grande responsabilità verso coloro che hanno reso ciò possibile, certamente papà e mamma che hanno dato un contenuto straordinario, irripetibile a questa impresa alla quale siamo tutti molto legati.